Eccoci qua, rimane la terza tappa del tour di spinning, spinning tour, adesso stiamo battendo su Giudeo, le posizioni office erano, mi sa, poco probabili per il nostro spinning, pressoché in pratica, pressoché, onesto, 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 arrivò un po' di ora, non lo fare, l'ammetto, Allora, fai le prime considerazioni, e vogliamo andare a Ops ma, non l'abbiamo da un problema, non l'abbiamo di padre, è vero, questo è un filmismo, e qualcuno vorrebbe andare a fare pitch dadgering, un po di onda ma chi ha il servizio è una ragazza chi ha il regalo a tanti servisti basta ma da soliti ti conosci da bene ma bene non muo vedremo a fine serata 5 5 5 6 12 15 ecco la scalata oh io sto filmando se volete rallentare non posso perdere aria perché dopo non ho capito che in montagna fa tutto il calcio si mezz'oretta di viaggio si chi sa camminare chi sa camminare non so aspetta un po' non c'è altro po' mare qua non c'è altro po' mare Dani saluta ciao ragazzi ti saluti dal vostro presidante vediamo dopo barracuda vai al Murinello Mauro Attoni possibile SR dal spinning fatto col momoto primi di mare SR scouting 5 marzo 2012 concentrato attenzione all'acqua che arriva e ogni tanto vedete movimento di canna perché il mare è abbastanza insidioso portalo fuori e basta eh bello siamo in fase concittata portalo 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 porta l'ora il momoto sta regalando delle emozioni Basta non portare il raffio Eccolo qua Scusa, ci stavo tirando un'altra Ok, abbiamo portato a casa Questo è un serra Un bel serra, terrino Il Momoko ha fatto effetto, ragazzi Il Presidente Via, via, via Mauro, viare, viare Eccolo qua Vai, l'altro ti muovi Questo è il Momoko Prima, l'altro col Momoko Grande emozioni Soprattutto da tanta acqua Tanta acqua E adesso caluta perché chiude per la pescare Via Salve ragazzi Buonasera Buonasera Mie di mare Sezione spinning Perché adesso abbiamo portato questa nuova sezione Sezione spinning Oggi siamo a Sulacu 2 Perché è nuova tappa Cosa, come va lo spinning? Bene Per essere principianti Non è andata male La situazione com'era oggi? Siamo indecisi se è stata una botta di culo Oppure abbiamo azzeccato la situazione Lo spot Guarda se tu si vede Secondo me è lo spot Lo spot sulla Q2 è premia Cosa per te hai fatto ragazzi? Abbiamo fatto anguille di mare Vediamo Abbiamo fatto insomma due anguille di mare Queste sono Anguille di mare Poi è atto barracuda Possiamo vedere la dentatura a guzza tipo serpenti Questo è un gatto veleno Un gatto rodacordico E poi abbiamo fatto i soliti gnotti Serronidi Perché questi vanno uccisi E quindi voglio Nell'artificiale Nel mamoco Può mangiare in barranù Non è stato possibile E poi abbiamo visto Caccia tra i lì Abbiamo avuto un po' di problemi Torni ad oggi Qui c'era forse Un'attrezzatura sbagliata Come tutti 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 Pesce fresche Buona buona signore Queste pesce Mercato Flesche Adesso ci puoi capire sul pane Andare Quanto al giro zio? Cosa dicono? La giornata Signia di mare Marzo 5 2012 Arrivederci Alla prossima E tu? Spin West Per una pesca Onesta Per una pesca Per una pesca Per un po' di Per una pesca Per un po' di Per un po' di